Ciao Michele, benvenuto a Giffoni Shock. Ciao. Sei re, educi diciamo, appena adesso dall'incontro con i nostri ragazzi. Com'è andato l'incontro? Se ne vuoi parlare? Dovreste sempre chiedere a loro, però dal mio punto di vista è bene perché è stato arricchente, è sempre bello sentire riflessioni e domande degli altri, perché poi nelle domande ci sono delle riflessioni in sé di cui ci possiamo nutrire. Il tema di questa giornata, però appunto, era l'affermazione non è vero che vogliamo essere felici. Cosa hai pensato tu quando l'hai letta, quando l'hai sentito parlare? Che mi piacciono le affermazioni scioccanti, anche il fatto del festival che è un Giffoni Shock, perché ribaltare, scioccare, separare, dividere, aprire, crea sempre l'opportunità di guarire. Ogni guarigione viene attraverso un ribaltamento di prospettiva, quindi lo shock, la frase shock, o comunque dire non è vero che vogliamo essere felici, ti dà un punto di vista che ti permette di guarire la tua felicità, cioè di riflettere su in che modo io ostacolo la mia felicità. Spesso della nostra generazione si sente parlare in ogni modo, tutti i tipi, si usano tantissimi aggettivi. Secondo te la nostra generazione, la generazione da adesso, la generazione Z, comunque dei giovani, è effettivamente più fragile o addirittura più debole rispetto alle generazioni rossate. È più profonda. Ogni generazione nuova, secondo me, è un po' più profonda di quella vecchia, ha più consapevolezze, grazie anche per esempio ai social, alla divulgazione, grazie a questi eventi, anche che comunque permettono di essere una fucina di idee interiori. Quindi più andiamo giù nei meandri dell'anima, nella nostra foresta interiore, e più emergono fragilità, ma anche forza. Quindi ti risponderei sì, ma in quanto, cioè è fragile sì, ma in quanto è più profonda. La tua cifra stilistica è, diciamo, proporre dei contenuti sulla psicoterapia in maniera accessibile, semplice, non semplicistica ovviamente, ed è quello appunto che ti caratterizza sui social. Perché secondo te è importante togliere questo stigma sulla psicoterapia, ma in generale su una cura della propria interiorità? Perché tutti abbiamo una psiche e quindi tutti dobbiamo saper parlare con la nostra psiche di psiche, no? E non c'è nessun pregiudizio, dobbiamo farlo per forza. C'è un dialogo costante di tutti con la nostra psiche. C'era un mio formatore che diceva se riesci a spiegare qualcosa a tua nonna, non so che non ne avete, però insomma, non era abruzzese, verace, insomma, la quinta elementare, significa che lo sai e lo stai dicendo bene ed è funzionale, altrimenti significa che stai a parlare a una sedia, insomma. Ed è per questo che secondo me deve arrivare un po' a tutti la psicologia e deve crollare lo stigma, perché è di tutti.